Sono appena stati resi disponibili due giochi gratis, fighissimi, che devi assolutamente riscattare prima che l'offerta scada. Partiamo con Wolfenstein The New Order, primo capitolo del nuovo corso della storica saga che insieme a Doom ha dato vita al genere FPS. Nei panni del tamarrissimo William Blazkowicz dovremo affrontare i nazisti, che in questo passato alternativo stanno vincendo la guerra grazie ad una tecnologia avanzata. Lo trovate su Amazon Prime Gaming riscattabile fino al 5 maggio. Il secondo invece è Dying Light, un open world a tema zombie fatto dagli stessi autori di Dead Island. Oltre ad un sistema di combattimento corpo a corpo pesante e soddisfacente, il titolo offre meccaniche parkour che permettono di muoversi attraverso la mappa di gioco con acrobatica rapidità. Ma la cosa più figa? Il titolo è co-op e potete giocarlo in compagnia di amici. Sta cosa gli fa guadagnare un sacco di punti. Riscattabile fino al 13 di aprile sull'Epic Store.